Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione su Telebari e Radiobari da Barbara Cirillo. In apertura la Puglia al voto. C'è tempo fino alle 15 di questo pomeriggio per recarsi alle urne. Gli elettori di 43 comuni pugliesi stanno scegliendo sindaci e consigli comunali. Il test interessa quasi 700.000 persone. Crolla l'affluenza sebbene la nostra regione tenga rispetto al panorama nazionale. Meno 5% in Puglia, meno il 7% a Bari, almeno stando agli ultimi dati disponibili di ieri sera alle 22. Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura. L'eventuale turno di balotaggio, che secondo alcune previsioni potrebbe interessare 13 comuni con più di 15.000 abitanti, invece è fissato per domenica 9 e lunedì 10 giugno. Mercoledì Bruxelles deciderà sulla chiusura della procedura per deficit eccessivo dell'Italia. Un esito positivo potrebbe significare l'allentamento dei vicoli sulla spesa che stanno soffocando il nostro Paese. Questo potrebbe anche scongiurare l'aumento dell'IVA. Noi ne abbiamo parlato con il sottosegretario allo sviluppo economico, Simona Vicari, intervissata da Silvia Di Pinto. Noi dobbiamo aspettare il 29, intanto se questa procedura viene chiusa e io penso che verrà assolutamente chiusa. Dopodiché da quel momento occorre andare a contrattare in Europa per cercare di mantenere il deficit al 3% qualche anno in più rispetto a quello che invece ci hanno imposto. In un anno non ce la faremo mai, dovremo prendere qualche anno in più come è stato dato, come è stato concesso alla Spagna e alla Francia e quindi poter parallelamente aumentare, mettere accanto al rigore una maggiore crescita. Se facciamo questo liberiamo alcune risorse, per esempio apriamo la forbice del patto di stabilità che è troppo rigoroso. In quel modo liberiamo risorse e quindi è possibile recuperare quei 3,5-4 miliardi che servono per non dover aumentare l'IVA. Noi ce la metteremo tutto, anche il Ministro dello Sviluppo Economico ci sta lavorando. Il primo passo siamo riusciti ad ottenerlo con la sospensione dell'IMU e per quanto riguarda i magazzini faremo la detrazione dell'anno prossimo. Con questo sistema se riusciamo ad avere maggiore forza contrattuale in Europa sarà possibile non aumentare l'IVA ma anche ottenere altri benefici per il nostro paese. E il Presidente della Regione Puglia, Niki Vendola, ha incontrato il Premier Enrico Oletta. Vendola ha posto con forza il problema della modifica della delibera Cipe, approvata l'8 marzo del 2013. Spiega in una nota che nei fatti significherebbe una perdita di fondi FAS per circa 3 miliardi di euro. Inoltre il Presidente ha chiarito che la nettizzazione dei fondi comunitari riguarda non solo gli anni 2014-2020 ma anche gli anni 2007-2013. E' scomparso ieri all'età di 73 anni Lucio Albergo Politico, leader universitario di Bari, più volte consigliere comunale e grande amico di Telebari. I funerali oggi pomeriggio alle 16 a Carbonara, il ricordo di Lucio Albergo nel nostro servizio. Quando una cosa è una sciocchezza, è una sciocchezza se si fa a sinistra, è una sciocchezza se si fa a destra. E lo sanno i cittadini, lo capiscono gli elettori dell'una e dell'altra parte. A parte quelle minoranze di Colleone che stanno sia da una parte che dall'altra, che si esaltano per queste cose attivistiche. La democrazia è una cosa seria ma in questo paese purtroppo non è presa molto seriamente. Uno spirito libero, originale e irriverente, non a caso l'ultimo dei goliardi di Bari, che portò gli studenti del capoluogo in tutta Europa. E' scomparso ieri all'età di 73 anni Lucio Albergo, più volte consigliere comunale che univa la passione per il movimento studentesco universitario alla militanza politica. Fondatore del centro turistico studentesco e dell'organizzazione turistica europea, Albergo è stato grande amico di Telebari. L'ultima sua iniziativa pubblica è stata infatti la trasmissione La Colonna Infame in onda nel 2008, nella quale fustigava le inefficienze dell'amministrazione pubblica. Lucio Albergo fu uno stretto collaboratore di Giuseppe Tatarella e consigliere per i Balcani e l'Oriente del sindaco Simeone di Cagno a Brescia. E proprio all'onorevole del PDL abbiamo chiesto un ricordo dell'amico scomparso. Io stavo facendo la festa della matricola, cioè mi avevano obbligato a offrire un pranzo ai più anziani. Uno dei più anziani era Lucio Albergo, quindi da quel momento, 50 anni fa, siamo diventati amici. Nel momento in cui io sono diventato sindaco, lui mi si è affiancato in maniera molto soft, come era il suo stile. Lucio non ha mai chiesto niente per sé, ha chiesto sempre qualcosa per la città, per i giovani della città, per cercare di migliorare questa città, fino ad arrivare a essere l'ambasciatore dell'altra parte dell'Adriatico, Albania, Montenegro, Macedonia, erano le nazioni che lui vedeva nella possibile collaborazione con Bari, questo corridoio, questo ponte che doveva unire queste due grandi realtà. E ora passiamo alla cronaca. Una donna di 37 anni ieri sera è stata colpita di striscio dalla moglie del cugino nel quartiere Madonnella. La 37enne, in seguito a un litigio per passati rancori familiari, è stata ferita da un colpo di pistola calibro 7,65, detenuta illegalmente dalla cugina acquisita che avrebbe aggredito la vittima prima di estrarre l'arma. La donna si riprenderà in sette giorni. Al momento gli agenti di polizia stanno indagando sull'accaduto per capire se il colpo sia partito involontariamente o meno. La donna che ha usato l'arma invece ha fatto perdere le sue tracce e sono ancora in corso le indagini per rintracciarla. Si è concluso con 5 arresti in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il sequestro di quasi 500 grammi di droga e due pistole, un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri del comando provinciale di Bari nel capoluogo ed in provincia finalizzato a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di droga. A Bari due gli arresti, un 23enne e una 27enne di origini nigeriane, sorpresi a spacciare 15 grammi di marijuana ad una 42enne in via indipendenza nel quartiere Libertà. Inoltre durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno ritrovato altri 5 grammi della sostanza che spacciavano 1130 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.